Allora, soddisfatto Massimiliano Almini possiamo dire? Beh no, soddisfatto non è corretto, si poteva fare meglio, si doveva fare meglio. Diciamo che siamo partiti in fretta, la prima volta abbiamo fatto il possibile, è un punto di partenza per aggiustare il tiro perché ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare. È andata abbastanza bene, si poteva fare meglio ma da qui partiremo eventualmente, cioè il comune di Pianca Stagnaio partirà per magari mettere in piedi qualcosa di ancora migliore. Eh, te che ci, come sei detto questa? Ma io ho un rapporto, un accordo di consulenza in cui sono per il comune di Pianca Stagnaio la persona deve sviluppare il tema cavallo all'interno del comune, quindi io non sono quello che è venuto qui per fare le corse, io sono per sviluppare il tema cavallo che fa dalla didattica al turismo equestre, sapete benissimo che con la rete d'impresa con cui collaboro la Final Farlong ci sono in piedi molte iniziative del mondo del cavallo, il mio non è un ruolo per fare le corse. Ripasciamo? E questo lo dobbiamo chiederlo all'amministrazione comunale, dobbiamo chiederlo al magistrato delle contrade, dobbiamo chiederlo a padroni di casa. A parte della scivolata è una pista favolosa. È una pista che ho studiato grazie ai tecnici che mi hanno supportato da vicino, fatta molto bene, oggi aveva un famoso test molto stressante perché otto corse di seguito non le aveva mai subite, però è un fondo estremamente interessante, non gli fa paura l'acqua, il problema dell'acqua è per il pubblico ma non per il terreno, e quindi è probabilmente un punto da prendere come esempio. Benissimo, allora complimenti per l'organizzazione, complimenti al comune, Grazie a te per essere sempre presente e supportare anche tutti questi eventi. Benissimo, grazie a te di nuovo, complimenti. Grazie.